Come secondo anno molto contenti per rinnovare l'appuntamento con un momento che parla della nostra città, della nostra regione, delle nostre qualità, del saper fare proprio. Quindi davvero un momento per parlare del nostro Natale, con le nostre tradizioni, con anche tutto quello che di bello c'è da far vedere, da far sentire, da fare anche mangiare delle bellezze tipiche della nostra città. Un appuntamento ormai, Genova un po' come tante città del nord, a Natale è abituata piano piano a vedere questa bellissima coreografia, questa bellissima presenza. In quest'anno in particolare ha una valenza ancora più importante perché dopo quello che abbiamo patito quest'estate, nei mesi dell'autunno, è un punto per magari alzare un pochino lo sguardo e riprovare ad avere un sorriso. E allo stesso tempo, come è sempre stato, come è giusto che sia, è anche una bella vetrina per dare un minimo di lustro alle nostre produzioni, alla nostra attività, del settore appunto dell'artigianato, dei prodotti di qualità, che sono, diciamo, il nervo forte del tessuto economico genovese e anche lingue.